Il bilancio costruttivo dell'istituto si chiude positivo, quindi saldi buoni, stabilità del sistema e patrimonio che cresce. La ragione della presentazione di oggi è anche per riflettere un po' sul futuro e cercare anche in qualche modo di intravedere le nuove sfide, anche i nuovi rischi che sono collegati alle dinamiche demografiche del mercato del lavoro che si impoverisce, è sempre più discontinuo e quindi è importante per confermare che in prospettiva questa solida situazione occorre fare politiche coerenti che servono a sviluppare il paese, aumentare la produttività del sistema, aumentare le retribuzioni dei lavoratori e di conseguenza anche i contributi che riconversati all'istituto che è lo strovetto più importante per garantire a tutti quanti le prestazioni.